Rigenerazione strategica delle aree urbane. A Pescara oggi è stato presentato il risultato di un lavoro portato avanti dal Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio, grazie a un protocollo sottoscritto con il Comune nel 2015. Un menabò di idee e visioni che ritraggono quartieri e aree, trasformate secondo criteri di nuova generazione. Nel 2015 sottoscriviamo come Comune un protocollo di intesa con l'Università affinché ci potesse fornire un supporto scientifico per una serie di aree urbane che sono ancora trasformabili in una città come Pescara, povera di territorio e di suolo. Su questi progetti di riqualificazione si sono cimentati studenti provenienti da una decina di paesi e alla fine di tutto questo ci sono due ponderosi volumi che oggi presentiamo in questa sede. Questi volumi raccolgono il frutto di un anno e mezzo di studio, costituiranno anche la base del realizzando piano strategico. Non a caso abbiamo chiamato questa iniziativa verso Pescara 2027, cioè verso i cent'anni della nostra Pescara che appunto è nata nel gennaio del lontano 1927. Quali sono le aree strategiche prese in considerazione su Pescara? Dieci aree strategiche su tutta l'area di risulta, ma ci sono anche l'area per esempio lo scalomerci di Porta Nuova, c'è l'ex COFA, c'è l'ex FEA, ci sono le periferie e le zone industriali dismesse. Dieci appunto importanti aree, dieci occasioni di trasformazione urbana che vogliamo naturalmente contribuire a migliorare e modificare in meglio.